Anche attraverso la competizione si cresce e si cresce in maniera sana quando si ha la serenità di rapportarsi con gli altri intendendo comunque questo confronto come un momento di crescita. Vedendoli in un concorso di danza dove comunque l'obiettivo è ballare, esibirsi e far vedere quanto e come si è studiato questa passione, non dico la danza, allora lì i ragazzi assumono un aspetto più giusto al mio avviso che deve essere assolutamente incoraggiato e sostenibile.